Oh! Occupato! Come occupate? E che su, delle sei del mattino di entrare al gabinetto? Ho detto mamma che dovevo studiare il catechismo che la mattina c'ho la testa più fresca. Catechismo? Ah già, tu quest'anno c'è la prima comunione. Papà, che c'è gli occhiali di sole? Sì, gli occhiali di tua sorella. Ah! Mamma benedetta! E che hai mangiato? I tulipani? I fascioli con le cotiche. E si sente? Perché non la fai nella tazza? Perché ho detto mamma che dovevi vedere se c'ho i femmini. Io ce l'ho ai verbi, io!